si rallenta mancando quattro secondi alla finalizzazione Guffanti in angolo a segno Andrea Guffanti ancora una volta un canestro a Filippi Sirena spinge del contropiede giallonero palla cortesi angolo per Zanelli il DTFL ma è ancora Guffanti dall'angolo ancora un canestro a Filippi suonare la carica il cavallo traverso e quarto quarto le sue due frifre pensamento al capitano palla recuperata subito da buona e canestro 64 pari palla per tornare davanti tanto tempo vanno a Comas ed è mercante che opera a sorpasso Zanelli in uscita Zanelli non tira ma si affida al Chiarello che trova il taglio di Mapper schiaccione di Cristiano Mapper grazie a tutti Grazie a tutti.